Oggi noi che cosa vogliamo fare? Noi vogliamo ascoltare i cittadini romani, quindi il prossimo sabato e domenica ci saranno dei banchetti di noi con Salvini in tutta la città e ascolteremo il parere dei romani. Lo ascolteremo sia su qual è il candidato sindaco per loro migliore e da questo punto di vista ci saranno tutti i nomi che sono usciti nell'ambito del centrodestra, quelli ovviamente che non si sono già ritirati dalla competizione. Senza la Dallacchiesa, per capirci. Senza la Dallacchiesa, senza la Meloni, per esempio. Mi butto nel tevere, per dire quanto questa vostra coalizione fa fatica su Roma. Noi vogliamo ascoltare i romani, dopodiché la nostra ambizione è anche un'altra, cioè è quella di provare a costruire un centrodestra diverso, lo dice oggi Matteo Salvini in un'intervista su Corriere della Sera, un centrodestra diverso che non sia più la sommatoria matematica dei singoli partiti che lo compongono, cioè noi vorremmo costruire un progetto un po' più ampio, ma soprattutto provare a capire intorno a questo progetto quali idee ci sono. Noi abbiamo le nostre ovviamente, quindi abbiamo un nostro programma, quindi in tal senso ad oggi il programma con Bertolaso non abbiamo capito se coincide o meno. Quindi noi cittadini chiederemo sabato e domenica nelle piazze di Roma qual è il candidato sindaco che preferiscono, ma al contempo anche su 4-5 punti che noi riteniamo qualificanti per la città, se sono d'accordo o meno o se hanno altre priorità.